Un'altra applicazione dell'induzione elettromagnetica è l'interruttore differenziale, detto anche il salvavita, che è in grado di riconoscere eventuali perdite di corrente nella rete elettrica di casa e stacca immediatamente l'energia elettrica. Infatti se c'è una perdita di corrente da qualche parte potrebbe significare che una persona sta per essere folgorata. Allora l'interruttore differenziale si attiva per bloccare la corrente perché riconosce che il flusso magnetico generato da questo solenoide non è più uguale al flusso magnetico generato in verso opposto dall'altro solenoide, segno che in uno dei due solenoidi è venuto a mancare un po' di flusso di corrente. La differenza tra i flussi magnetici generati dai due solenoidi viene avvertita da questo terzo solenoide che allora subisce il fenomeno dell'induzione elettromagnetica perché avverte una variazione del flusso che l'attraversa e in questo caso attiva subito il blocco della corrente elettrica.